In caso di vittoria, la scelta di portarsi con sé alla Casa Bianca, la senatrice Kamala Harris, è apparsa a tutti la meno rischiosa per il democratico Joe Biden. Inoltre Harris ha consentito probabilmente di riagganciare quell'elettorato multietnico incline a preferire i Dem. La senatrice della California rappresenterebbe una sorridente delegata di diverse identità e sensibilità sociali, diventate relativamente centrali nella politica americana. Inoltre è la prima non bianca ad essersi mai candidata ad uno dei due incarichi maggiori nella politica nazionale. Abbiamo un presidente che trasforma le nostre tragedie in chance politiche, ha avuto modo di dire. Joe sarà un presidente che trasforma le nostre sfide in un obiettivo e ci riunirà per costruire un'economia che non lasci indietro nessuno. Globalmente ha saputo suscitare interesse. probabilmente si colloca più a sinistra di Biden, fa parte del nuovo partito progressista. Avrei preferito che avesse trascorso più tempo al Senato per incassare più voti e per farsi conoscere meglio. Sarà interessante vedere quale traiettoria sceglierà. Certamente si è presentata come candidata alla presidenza, quindi potrà sicuramente candidarsi nel 2024. Harris ha 55 anni, è molto più giovane di Biden, che a sua volta è piuttosto anziano. È figlia di un'endocrinologa emigrata dall'India e di un professore di economia emigrato dal Jamaica. È stata a lungo procuratrice, prima per San Francisco e poi per la California, e dal 2016, senatrice. Potrebbe essere la prima vicepresidente nera d'America.